Quello che faremo oggi è una veloce traversata di uno degli aspetti fondamentali del cinema, ma non solo del cinema, perché quello di cui vi sto per parlare attraversa il cinema ma un po' tutta la cultura contemporanea, cioè il sistema dei generi, generi che possono essere cinematografici ma anche letterari, anche giornalistici tra l'altro, naturalmente televisivi e così via, quando parliamo di poliziesco parliamo di qualcosa che è nel cinema ma è anche nell'editoria, anzi è uno dei generi più popolari dell'editoria, come si vede entrando in qualunque libreria, ci sono interi scaffali dedicati al poliziesco e anche della serialità televisiva e contemporaneamente è un genere che influenza molto il giornalismo e ne è molto influenzato. Quando parliamo di fantascienza parliamo di un genere di nuovo che è letterario, cinematografico, televisivo e così via. Quindi parleremo dei generi con un riferimento specifico ai generi cinematografici ma con un'attenzione, perché parliamo delle radici del sistema dei generi anche appunto a radici che risalgono al di là del cinema nella cultura di massa nel suo insieme e anche prima. In effetti il concetto di genere è un concetto antico, qui vediamo è un modello classico, è un affresco se non sbaglio pompeiano con due maschere, una maschera comica e una maschera tragica. Già il genere tragico e il genere comico sono insediati nella cultura classica, non solo ma all'interno del genere comico, della commedia ci sono diversi sottogeneri che hanno le loro regole, perché una delle caratteristiche dei generi che hanno, i generi sono, potremmo compararli a dei giochi con le regole, nel senso che ogni genere ha delle regole che lo spettatore, il lettore eccetera si aspetta che siano rispettate. Quindi anche nella cultura romana per esempio c'era la commedia e nell'ambito della commedia c'erano le atellane che erano delle commedie con delle regole molto precise, c'erano i personaggi fissi nelle atellane che avevano delle maschere tra l'altro perché nei generi classici del teatro la maschera era un elemento distintivo. Quindi parlare di generi non è parlare solo del mondo contemporaneo, però certamente nel mondo contemporaneo tra l'otto e il novecento i generi assumono un peso e un ruolo particolarmente significativo che come vedremo nel cinema diventa ancora più significativo. Ecco, per capire il ruolo dei generi dobbiamo tener conto di due elementi essenziali, il ruolo dei generi nel sistema contemporaneo. Uno è l'industrializzazione della cultura, il fatto cioè che la produzione culturale e in particolare per quello che qui ci riguarda la produzione di fiction, cioè di narrativa di invenzione e la produzione di informazione sono industrializzate, cioè sono prodotte per mezzo di apparati, di apparati tecnologici oltre che di apparati organizzativi e di apparati che, come dire, devono produrre un utile, quindi rispondono a regole simili al resto dell'industria, ma come vedremo ci sono alcune differenze importanti del resto dell'industria. Il concetto dell'industrializzazione della cultura non è un concetto nuovo, l'espressione dell'industria culturale è un'espressione che risale agli anni 40 del Novecento, industria culturale, per l'esattezza sono due critici della cultura di massa ad Arnold Horkheimer che per la prima volta parlano di industria culturale nel volume Dialettica dell'Illuminismo, in termini molto duramente critici, se industria come fa a essere cultura, se cultura come fa a essere industrializzata? Questa è la domanda che ha la base di questo concetto, in realtà comunque dobbiamo convivere con il fatto che la cultura è industrializzata, che ci piaccia o meno, però il concetto non risale, non è stato inventato da loro, già nel 1840 Alexis de Tocqueville, l'intellettuale francese di ritorno dal viaggio negli Stati Uniti, scrive nel suo volume La democrazia in America un capitolo intitolato L'industria letteraria, dove parla di una industrializzazione della letteratura, di un'industrializzazione della letteratura che deve rispondere al continuo bisogno di novità del pubblico. La cultura industrializzata che non è, a differenza di quello che pensavano Adorno e Orkheimer, necessariamente una cultura inferiore o superiore, ma è un modello, un momento nella storia della cultura. La cultura industrializzata ha delle regole. Ecco, un esempio assolutamente tipico di industria, di industria culturale, è quello che ha dato luogo alla nascita del genere romanzo. Naturalmente non è che il romanzo sia nato solo dal fatto che era industrializzata la produzione dei libri. Il romanzo nasce dall'incontro tra l'industrializzazione della produzione dei libri e naturalmente il fatto che sta cambiando l'atteggiamento culturale complessivo della società. Già a metà del Settecento nascono i primi best seller. Qui abbiamo le copertine di due best seller. Uno è Peimela di Samuel Richardson che esce in Inghilterra nel Settecento. Uno è I dolori del giovane Werther di Goethe che esce, come sapete, alla fine del Settecento in Germania, che diventa un best seller, prima tedesco e poi internazionale. Il fatto che stia citando Goethe e i dolori di giovane Werther, che molti di voi avranno letto, indica che il fatto che un libro sia un best seller non indica che sia necessariamente una schifezza. Può essere un assoluto copolavoro come il Werther. D'altra parte può essere anche una schifezza. Il fatto che un libro abbia successo o non abbia successo non dice molto rispetto alla sua qualità. Sono due processi che vanno abbastanza separatamente. Il successo di pubblico e la qualità letteraria o anche cinematografica. La storia del cinema è piena di capolavori che non hanno avuto successo e anche di capolavori che hanno avuto successo. Il punto è che comunque sono prodotti industriali. L'industria cinematografica rafforza le caratteristiche industriali dell'editoria. La rafforza perché naturalmente la produzione del cinema è più costosa e più complessa. La rafforza perché naturalmente il cinema è un prodotto molto più fatto a macchina di quanto sia il testo letterario. Un romanzo può essere manoscritto. Ci sono dei testi letterari che sono rimasti manoscritti per secoli e può essere stampato. Il film deve essere comunque prodotto da un complesso apparato tecnologico oltre che culturale. una delle cose impreviste è che il film, come noi lo conosciamo, che inizialmente tutti si aspettavano fosse la continuazione del teatro, infatti si parlava di fotoplay, dramma fotografico, è diventato ben presto la prosecuzione del romanzo, della forma di fiction che è nata con il romanzo nel settecento. Naturalmente ci sono dei predecessori del romanzo settecentesco, c'è il più grande di tutti che è il Don Quixote della Mancia e siamo all'inizio del seicento, c'è il romanzo ellenistico per esempio, ci sono romanzi cinesi e così via. Ma il romanzo come genere letterario di largo consumo è un bene tipico del mondo moderno ed è legato all'industrializzazione della cultura. Anche il giornalismo è parte dell'industrializzazione della cultura. Il giornale si diffonde massicciamente in quanto è prodotto non solo da apparati tecnici, cioè la stampa, fino a tempi molto recenti, la stampa spesso non lo si considera a sufficienza, la stampa di Gutenberg è la prima macchina di produzione di serie. La produzione di serie non è nata con i vestiti o con le automobili, è nata con la stampa. Il giornale non solo deve stampare le notizie, ma deve farlo tutti i giorni, farlo uscire in un certo momento, distribuirle, eccetera. Abbiamo di nuovo un sistema industriale complesso. Per il romanzo come per il giornalismo possiamo dire che c'è una regola fondamentale che è stata enunciata da alcuni degli intellettuali che hanno parlato per primi di industria culturale come la regola del nuovo e del sempre uguale. Il pubblico del cinema come il pubblico del romanzo, eccetera, vuole continuamente, come diceva Tocqueville, opere nuove. Gli editori letterari della Francia dell'Ottocento venivano chiamati editor de nouveauté, editori di novità, perché la caratteristica, ma ancora adesso se voi vedete come funziona una normale casa editrice di quel tipo, ogni anno deve fare uscire un certo numero di romanzi nuovi, così come una casa cinematografica ogni anno deve fare uscire un certo numero di film nuovi, così come una casa discografica con i dischi, eccetera, eccetera. Il nuovo, e naturalmente i giornali addirittura ogni giorno devono far uscire notizie nuove. Però il pubblico richiede anche qualcosa che risponda a modelli che siano comprensibili in quanto anche facilmente riconoscibili. Ogni romanzo poliziesco è diverso da tutti gli altri, perché se uno sa già chi è il colpevole non c'è divertimento. Parlo del poliziesco classico, ma lo stesso vale in qualche misura per i polizieschi di stili diversi, serial killer, eccetera, eccetera. Se io so già tutta la trama del poliziesco non mi diverto, di cui questa ossessione che peraltro è molto tipica del nostro tempo per lo spoiling, mi rovini la storia perché mi dici già come va a finire e così via, ma dall'altra parte però, come diceva un critico letterario, ogni volta che si legge un poliziesco, ogni volta che si legge un poliziesco è come consumare un atto simile a quello che abbiamo già consumato in passato. Ogni volta che si legge un poliziesco io in qualche misura, certamente non so chi è il colpevole, ma in qualche misura so come è strutturato quel romanzo e tanto più se poi vado a leggermi un ennesimo Megre o un ennesimo Agatha Christie, eccetera, eccetera, quindi con dei meccanismi che sono confermati anche dall'autore e così via, o un ennesimo Montalbano e parlo adesso di leggere, ma naturalmente questo vale ancora di più per la serialità televisiva o cinematografica. Sono abbastanza chiaro, vado troppo veloce? Il nuovo e il sempre uguale. Ecco, tra gli elementi essenziali di questo meccanismo del nuovo e del sempre uguale c'è il sistema dei generi. I generi letterari, cinematografici, televisivi, eccetera, sono strutture, io prima li paragonavo a dei giochi con regole. I giochi con regole sono, se ci pensate bene, la matrice del nuovo e del sempre uguale. Ogni partita di scacchi è diversa dalla precedente e può finire diversamente perché altrimenti non c'è nessun gusto, però le regole degli scacchi sono sempre uguali e le aspettative che noi abbiamo nei confronti di una partita a scacchi sono almeno in parte simili, anche se la partita deve cambiare ogni volta. La costruzione di un racconto di genere significa inventare delle cose nuove, delle strutture nuove, dei racconti nuovi, eccetera, ma farlo dentro dei meccanismi che sono tutto sommato abbastanza ripetitivi. Il rapporto tra il sistema dei generi e le esigenze del pubblico, ma anche le esigenze dell'industria venne colto benissimo da un'antropologa, è molto interessante, nel 1950 questa antropologa, cioè proprio una che studiava i costumi dei popoli, nel 1950 ha deciso di studiare i costumi di quello strano popolo che erano i produttori, i registi, i tecnici, gli attori dell'industria cinematografica. Il libro che non mi risulta sia mai stato tradotto in italiano si chiama Hollywood, The Dream Factory, e in questo libro Hortense Podermaker, l'autrice, dice che il prodotto della fabbrica dei sogni di questa peculiarissima industria non è della stessa natura come gli oggetti fabbricati da una fabbrica industriale normale. Per questi, cioè per le automobili, per esempio, di un'azienda automobilistica o per le lavatrici di un'azienda che produce quel tipo di bene, l'uniformità è essenziale. Per l'industria cinematografica è importante l'originalità. Il conflitto tra uniformità e originalità è un grande problema dell'industria cinematografica, come conciliare la uniformità con la novità continua. Vorrei chiarire un punto, l'uniformità risponde a diverse esigenze del pubblico, l'avevo detto prima, anche alle esigenze dell'industria naturalmente, perché la programmazione di un prodotto di serie o di genere è molto più facile che non la programmazione di un prodotto totalmente nuovo. Così come le attese di guadagno su un prodotto di genere o di serie sono maggiormente calcolabili che le attese di guadagno su un prodotto completamente nuovo. Spesso i grandi flop nascono anche dalla imprevedibilità del prodotto. Negli stessi anni un critico americano poco conosciuto da noi, Robert Worshaw, sono stati tradotti i singoli saggi, ma il suo grande libro non è ancora mai stato tradotto. Noi pensiamo che sia stato sempre tradotto tutto, ma spesso molto del meglio non è conosciuto e si continuano a tradurre cose simili. Di nuovo è sempre uguale. Robert Worshaw parlava della tendenza costante del cinema a creare modelli drammatici che possono essere ripetuti indefinitamente con una ragionevole aspettativa di profitto. Un film di gangster dopo l'altro come un musical, come un western, eccetera, eccetera. Questo è scritto nel 1948, se non sbaglio, l'anno della mia nascita, ma sostanzialmente adesso magari al posto del gangster e del western, che non va più tanto di moda, mettiamo un altro genere, ma di quello si tratta. Per esempio il noir. Quanti noir vengono prodotti ogni mese da Hollywood come da altre aziende. Però, dice Worshaw, la rigidezza della formula non è necessariamente incompatibile con le esigenze artistiche. Questo è un punto importante e la rigidezza della formula non deve essere incompatibile con la novità ogni volta del prodotto. Ma è importante che, come sottolinea Worshaw, il quale fa l'esempio addirittura di qualcosa che consideriamo ai vertici della storia della letteratura mondiale, la tragedia elisabettiana, che comprende Shakespeare, ma non solo lui, Christopher Marlowe, Ben Webster, eccetera, eccetera. Shakespeare dice, John Webster, scusate, dice, in fondo la tragedia elisabettiana era regolata come il western, cioè tutto sommato c'erano degli elementi fissi che tornavano da una tragedia all'altra, anche se compagnivano una serie degli elementi nuovi. Questo non toglieva la qualità e lui poi tra l'altro scrive tutto questo in un saggio assolutamente decisivo su film di gangster, dice che il film di gangster può essere un capolavoro. Alcuni dei grandi film di gangster della storia del cinema, un nome per tutti, Scarface di Howard Hawks, è uno dei grandi film della storia del cinema, ma è un film assolutamente di genere. Quindi l'uso del termine genere non ha niente né in positivo né in negativo, ancora questa volta, rispetto alla qualità. Così come le vendite non dicono molto sulla qualità, anche l'appartenenza o meno un genere non dice molto sulla qualità. Il genere comunque è prodotto dall'industria, ma deve essere riconoscibile dal pubblico. Questo è un elemento fondamentale. Il genere non è semplicemente qualcosa che hanno in mente gli apparati cinematografici. Il genere è qualcosa che il pubblico fa suo, a furia di vedere prodotti di un certo tipo, e riconosce. Quindi in qualche modo possiamo dire che il genere deve avere quelle che vengono chiamate delle marche di genere, degli elementi distintivi e facilmente riconoscibili. Quello che usano un casualmente il termine marca, che è un termine generalmente usato in questo caso, che somiglia al logo, cioè è come se il pubblico potesse dire questo è un film di gangster, film dalle prime battute. Con la televisione questo si è ulteriormente accentuato, perché in molti casi il pubblico deve poter riconoscere il genere, magari passando col telecomando da un'immagine all'altra. Quando si trova su un film deve poter capire abbastanza, o su una serie deve capire abbastanza rapidamente a che genere appartiene. Un esempio di marca di genere che io ho trovato delizioso si trova nel film Argo di Ben Affleck, che ha vinto molti premi 4-5 anni fa. Nel film Argo, come qualcuno si ricorderà, viene fatta una finta produzione cinematografica per portare via degli ostaggi dall'Iran e questa finta produzione cinematografica, che viene svolta in Iran, è fatta come una sorta di finta rimessa in scena del postclassico, quindi eroi, combattimenti e così via, una specie di Iliade ambientata in Grecia e in Iran. Quando i protagonisti del film vanno a presentare questo progetto ai due vecchi e scafatissimi produttori hollywoodiani, che sono interpretati da John Goodman e Alan Harkin, a un certo punto uno di questi si mette a raccontare, uno di quelli che stanno progettando il finto film si mette a raccontare, il finto film dice ci saranno spade, scudi, eccetera, eccetera, cavalli e allora il vecchio Alan Harkin lo ferma e dice no, se ci sono cavalli è un western. Cioè sostanzialmente se ci sono voli nello spazio deve essere fantascienza, se ci sono cadaveri e misteri risolti deve essere un poliziesco e così via. Se ci sono cadaveri e misteri risolti e poi non si sa alla fine chi è stato, è un'operazione un tantino discutibile, ma quasi sempre l'industria lo rispingerà perché dirà, noi il pubblico vuole sapere chi è stato e ne ha diritto, cioè il genere alla fine è il poliziesco. Warshow dice su questo una cosa molto bella, si va a vedere ogni singolo esempio della formula, la formula, la formula è l'espressione con cui lui definisce il genere, con aspettative molto precise e l'originalità è bene accolta solo nella misura in cui è capace di rafforzare l'esperienza attesa senza introdurre alterazioni di fondo. Il pubblico ha un attaccamento al genere, il pubblico ha un attaccamento e delle aspettative rispetto al genere, va a vedere il film con delle aspettative precise. Se queste aspettative vengono tradite magari qualche volta la cosa viene accolta positivamente. Vedremo poi un caso, ma è rimasto uno, di Western dove a fare il duello finale sono due donne, è rimasto uno, Johnny Guitar di Nicola Stray nel 1955, ha avuto nonostante tutto successo, ma poi due donne a fare il duello, non le hanno rimesse più perché il duello lo fanno sempre due uomini. Quindi può essere bene accolto, ma non deve indebolire, semmai rafforzare l'esperienza attesa. Questo fenomeno dell'attaccamento al genere sta assumendo nel mondo attuale, noi vedremo che ci sono alcuni cambiamenti in corso, sta assumendo nel mondo attuale alcune caratteristiche addirittura rituali, sono quelli che vengono chiamati i culti. I culti sono quelli per cui ci sono appassionati di film di fantascienza che non si limitano ad andare a vedere quei film, li guardano decine di volte, si travestono come i personaggi dei film, eccetera, eccetera. I culti, addirittura qui vedremo un attimo, tra un attimo un esempio che riguarda i vampiri, esiste un culto in Italia che si chiama Real Vampires, almeno esisteva qualche anno fa, in cui i cultori del genere di vampiri si incontravano regolarmente almeno una volta all'anno e si succhiavano il sangue a vicenda e così si sentivano dei veri vampiri. Era un esempio estremo, però giuro che esisteva. Real Vampires, c'era tanto di siti e appuntamenti e così via. È un caso estremo, però il culto esiste, Facebook l'ha rafforzato moltissimo, perché appunto ha rafforzato il ritrovarsi tra cultori dello stesso genere. Uno studioso di questi fenomeni, Ken Gelder, a proposito dei fan dei vampiri, dice che ci sono delle… lui parla addirittura di una dottrina dei vampiri. Per cui i fan dei film dei vampiri sono rigorosissimi nel controllare che i vampiri debbano essere invitati in casa prima di poter entrare, che non sopportino l'aglio, che non possano essere… che non possano traversare i fiumi, eccetera, eccetera. Nel momento in cui questo è, se volete, un caso un po' estremo, ma neanche tanto perché quello che vale per i vampiri in qualche misura vale per gli zombie, eccetera. Cioè per ciascuno di questi generi ci sono, vi dicevo, gioco con regole, ci sono delle regole. La regola per i vampiri è, per esempio, che non sopporti l'odore dell'aglio. E se noi facciamo un film con un vampiro che invece mangia quintali di aglio, può darsi che si divertono, ma si va immediatamente sulla parodia. Cioè assume subito una forma che esce un po' dal genere. Perché spesso i generi producono parodie, che però sono apprezzate in quanto il pubblico sa che non dovrebbe mangiare l'aglio. Cioè, se noi facciamo… le hanno fatte tante, per dire per favore non mordermi sul collo di Polanski, è una famosa parodia dei film di vampiri, o addirittura Tempi duri per i vampiri con Renato Ruschel, era una parodia un pochino più grezza all'italiana, con la canzoncina Vampiro dal Nero Mantello, perché non mi mordi sul collo. Ecco, queste cose qua, parodiche, però sono divertenti. Il genere può essere parodiato, ma la parodia può essere divertente perché noi sappiamo quali sono le regole. E quindi ci divertiamo sia a vederle rispettate in modo magari caricaturale, sia a vederle non rispettate in modo altrettanto caricaturale. Sono abbastanza chiaro su tutto questo? Ecco, il genere è uno schema ricorrente, un gioco con regole, possiamo anche dire una specie di racconto di base. C'è un racconto di base del poliziesco che è l'indagine, il detective, eccetera, eccetera, e ogni volta si riscrive questo racconto di base cambiandone una serie di elementi, arricchendolo di una serie di spunti. Ecco, scusate, i generi servono anche dal punto di vista dell'industria alla distribuzione del prodotto, a decidere quando programmarlo, per esempio nel palinsesto televisivo o nella stagione cinematografica, a decidere dove inserirlo e così via. Qui faccio l'esempio tipico dei cosiddetti cine panettoni. I cine panettoni sono un genere che tipicamente, per un certo periodo la cinematografia italiana, adesso è il fenomeno un po' scemato, venivano programmati per Natale, puntando sul fatto che a Natale poteva andare al cinema durante le lunghe feste tra Natale e Capodanno, la famiglia cercando qualcosa che fosse, che non facesse paura, che non facesse, che non sembrasse osceno, eccetera, eccetera, che però contemporaneamente fosse divertente o perlomeno apparisse tale e quindi veniva programmato tipicamente per Natale. Ma è un esempio tra i tanti, cioè il genere serve a distribuire i prodotti in relazione ai pubblici che si pensa che incontrerà. Del resto la distribuzione per generi la incontrate anche tipicamente nelle librerie o nelle edicole. Nelle edicole voi trovate, quando Arnoldo Mondadori nel 1929 ebbe l'idea geniale di produrre i gialli Mondadori, che sono gialli perché lui non sapeva che colore mettere alla copertina decise che fossero gialli, non perché il giallo avesse chissà quale significato, quando nacquero i gialli Mondadori nel 1929 fu deciso che un certo genere poteva corrispondere a una certa distribuzione, ogni settimana in edicola uscivano i gialli e poi su quel modello inventò nel 50, mi pare, Urania per la fantascienza, segretissimo pochi anni dopo per lo spionaggio, altro genere molto interessante ma non abbiamo il tempo di parlare di tutti e in questo modo assicurò una distribuzione regolare per genere di una lettura di libri fatta anche per persone che normalmente non entrano in libreria, perché quella fu la genialità del giallo e poi degli altri libri da edicola, così come adesso ancora ci sono i libri da edicola, l'operazione di distribuire laddove si raggiunge un pubblico che normalmente non si raggiunge, ma per fare questo l'inscatolare il prodotto in un certo tipo di scatola, la copertina gialla, la copertina nera di segretissimo, quella bianca di Urania, eccetera, eccetera, è uno strumento fondamentale che la gente riconosce dal giallo il genere che si aspetta, è chiaro? Ecco, adesso io quello che vorrei, io quello che vorrei però, di cui vorrei parlare adesso va al di là di questo ragionamento che finora è un ragionamento socio-industriale, abbiamo parlato del pubblico, di quello che si aspetta il pubblico e dell'industria culturale, di come si comporta l'industria culturale. Il punto è, basta, il fatto che l'industria produca polizieschi, il fatto che il pubblico riconosca il poliziesco, s'abbia delle aspettative precise, eccetera, basta a spiegare perché da circa 170 anni, diciamo comunque 130, perché le i primordi del poliziesco sono abbastanza distribuiti nel tempo, il pubblico continua a richiedere storie di delitti e di soluzioni di delitti, cioè pensateci bene, c'è un consumo impressionante continuo di assassini. Non è una cosa che si possa spiegare così facilmente in termini puramente di mercato classico, domanda e offerta. In termini di mercato classico si può spiegare che la gente compra dei vestiti, perché ne ha bisogno, si può spiegare con la moda il fatto che compri dei vestiti di un certo colore, eccetera, eccetera, un anno e poi magari dopo due anni ne voglia di un colore diverso e così via. Ma qui non siamo di fronte a un fenomeno di moda. Certo ci sono le mode all'interno dei generi, sia chiaro, non dimentichiamoci neanche questo. Ci sono anche generi che hanno avuto una vita breve perché sono stati di moda per un breve periodo e poi sono passati. Per esempio negli anni 70 i cosiddetti disaster movies, come l'inferno di cristallo, terremoto, eccetera, ebbero un periodo di grandissimo successo e poi sparirono come erano comparsi. Però il poliziesco non è spiegabile dalla moda. Può cambiare al suo interno, ma il fatto che la gente cerchi soluzioni ai delitti, e parliamo di delitti perché tecnicamente uno potrebbe scrivere ai polizieschi anche che parlano di furti, che parlano di truffe alle assicurazioni, sarebbero per me forse anche più interessanti, ma i polizieschi parlano sempre di morti. I polizieschi parlano sempre di cadaveri e di come è stato risolto l'enigma di chi ha ucciso il maggiore tabù della vita umana. Non uccidere. Qual è il consumo? Qual è la spiegazione di questo tipo di consumi? Ci basta la spiegazione sociologica della moda? Ci basta la spiegazione economica dell'industria? No, non ci basta né l'una né l'altra. Quindi dobbiamo approfondire il nostro ragionamento. Quella che vi propongo ora è la mia spiegazione. Naturalmente molto di quello che vi dirò non l'ho detto solo io, ma alcuni degli elementi che introdurrò nella mia spiegazione sono miei, nel senso che fanno parte del percorso di ricerca che personalmente ho intrapreso da alcuni anni e che compaiono anche nel libro che ho appena pubblicato dai Naudi che si chiama Miti a bassa intensità. Quali sono le radici profonde, profonde dei generi? La domanda di novità nasconde il bisogno di tornare su uno schema al Gianotto. Warsaw diceva, questo critico americano che vi citavo, diceva che non si può vedere tante volte lo stesso film, ma si può vedere mille volte la stessa forma. Ma perché vediamo mille volte la stessa forma? Perché quella forma e non altra. Ci sono dei tentativi di creare generi che sono miseramente falliti. ecco, allora sicuramente questo bisogno di ripetere la stessa forma è legata anche al fatto che l'industria vuole ridurre il rischio connesso alla produzione. Siamo ancora in una spiegazione industriale. Ricordatevi che l'industria cinematografica è una delle industrie a maggior rischio che esistano. Un film può costare letteralmente centinaia di milioni di euro e può fare flop. all'epoca dei disaster movies a un certo punto la gente si stufò dei disaster movies. E mentre l'inferno di cristallo o terremoto avevano fatto una paccata di soldi, Swarm, lo sciame che uccide, non vi ricordate neanche più che cosa sia perché è un film che è scrollato miseramente. c'è stato un genere che ha avuto un periodo di successo considerevole tra gli anni, prima le origini del cinema, poi in particolare negli anni 50, inizio anni 60, che era il cosiddetto peplum, il genere ambientato nel mondo greco e romano e che ha avuto anche quello dei grossi successi e poi quasi da un giorno all'altro i film peplum non li ha voluti vedere più nessuno. Questo che faccio vedere qua, i cancelli del cielo di Michael Cimino. Michael Cimino aveva avuto un successo notevole nei tardi anni 70 con il film Il Cacciatore con De Niro e Meryl Streep, subito dopo la sua casa produttrice, la United Artists, gli disse che cosa vuoi fare e lui disse voglio fare un western e tutti gli dissero benissimo fai il tuo western, i cancelli del cielo con Chris Christofferson e Isabelle Huppert, un western che andò talmente male che la United Artists fallì e fu venduta la MGM che l'assorbi. United Artists è una casa cinematografica gloriosa fondata addirittura da Charlie Chaplin, Griffith e Douglas Fairbanks, quindi parliamo delle origini della Hollywood moderna, è andata avanti per decenni, non una grandissima casa ma una casa solida e gloriosa, crolla per un film. Il cinema è un'industria ad altissimo rischio, anche perché i redditi del cinema per moltissimo tempo arrivavano solo dall'asbigliattamento nelle sale. Poi abbastanza presto alle nascite della televisione, a partire dalla fine degli anni 50 derivano anche dalla vendita dei diritti alla televisione, ma comunque derivano soprattutto dal pubblico e sono basati su prodotti unici, la televisione si è dotata subito, fin dalla nascita di quel meccanismo della serialità che è un meccanismo di garanzia. E poi la televisione ha un'altra caratteristica, la televisione i soldi non vengono dal pubblico che non paga spesso niente o paga il canone che è una tassa, i soldi della televisione vengono dai pubblicitari e i pubblicitari pagano gli spazi nei prodotti che hanno avuto successo gli anni precedenti. Perché un pubblicitario paga un determinato spazio? Perché quella serie lì ha avuto successo l'anno prima. Il meccanismo è un tantino più complesso, non si va a scommettere su una botta sola. Si costruisce tutto un meccanismo di aspettative e la televisione è più ripetitiva del cinema tra l'altro. Anche per questo motivo, perché i pubblicitari sono ancora meno disposti del pubblico a scommettere sulla novità. Ma il cinema è un gioco d'azzardo. Come si fa a evitare che questo gioco d'azzardo sia troppo rischioso? Ci sono diversi strumenti. Uno strumento è il divismo. Uno strumento è il divismo. Se in un film metto un attore particolarmente popolare, questa è di per sé non una garanzia assoluta, ma una possibilità di garanzia. Un altro strumento è il genere. Finché all'improvviso il genere passa di moda e crolla, io posso andare più sul sicuro facendo un poliziesco che chiedendo a Jean-Luc Codard di inventarsi quello che gli viene in testa. È chiaro il concetto? Sono abbastanza chiaro? Tra l'altro è molto interessante perché uno può dire allora l'industria del cinema ha inventato il divismo e ha inventato il sistema dei generi per farsi questa garanzia. Non è vero né l'uno né l'altro. Il divismo non è stato inventato dall'industria cinematografica. Il divismo ha colto di sorpresa tutti. Il divismo ha colto di sorpresa tutti. Rodolfo Valentino poteva chiedere l'equivalente attuale di molte decine di milioni di euro e Francesca Bertini lo stesso. Non perché l'industria cinematografica volesse usare l'oro per, naturalmente ad un certo punto in poi comincia a farlo, comincia a capire che è una miniera d'oro, ma perché il pubblico si è innamorato di loro. Il meccanismo per cui il pubblico si è innamorato dei divi non lo voglio discutere perché sarebbe un'altra lezione di otto ore e poi alla fine nessuno ne sarebbe certo. Perché il pubblico si sia innamorato di Francesca Bertini non è facile spiegarlo tranne che con una cosa, che Francesca Bertini era un personaggio straordinario e un genio del cinema, ma questo è un discorso che meriterebbe una lezione a parte. Ma perché il pubblico si sia innamorato di Rodolfo Valentino è ancora più difficile perché non era né un genio del cinema né un grande attore. Eppure quando ci furono i funerali di Rodolfo Valentino ci furono letteralmente migliaia di donne urranti che minacciavano di buttarsi sotto le automobili. È vero, è documentato, non è una leggenda. È un meccanismo che la capacità del cinema, questo incrocio di fotografia e romanzo, di creare dei personaggi a cui il pubblico si affiaziona enormemente, così come la capacità del disco e poi comunque delle altre forme di riproduzione sonora di creare dei divi della musica, è un meccanismo psicologico complessissimo su cui ancora c'è molto da dire. I generi narrativi, per i generi narrativi vale qualcosa del genere. L'industria cinematografica si è buttata sui generi, ma non perché li abbia inventati. In parte esistevano già in parte esplosi con il romanzo e il cinema, evidentemente pescando in radici profonde, quindi non vi parlerò del divismo, ma vi parlerò delle radici profonde dei generi narrativi e cinematografici in particolare. Il primo aspetto che dobbiamo considerare è che stiamo parlando di racconti, di narrazioni. La gente va al cinema o compra i libri per sentirsi raccontare delle storie e anche per raccontarle, non dimentichiamoci mai, per sentirsele raccontare e per raccontarle. Perché la vita di un film come la vita di un romanzo sta nella lettura, ma sta anche nella vita successiva fatta di racconti orali. Adesso con i social media questa vita successiva è addirittura visibile nella rete. Ogni serie televisiva ha una vita fatta di video, ma una vita fatta di riracconti, discussioni eccetera. Perché è diventata così forte l'ossessione dello spoiling? Perché la voglia di raccontare per intero il film sulla rete è diventata tale che la gente dice no per favore fermati prima di. Però tutto questo nasce da un elemento essenziale, l'amore umano per il racconto. Tutte le culture umane producono racconti. Gregory Bateson, uno dei più grandi intellettuali del Novecento, antropologo poi tra i fondatori della scienza cognitiva moderna. Gregory Bateson racconta una storia. Un uomo chiede a un computer, siamo negli anni 50, le domande vengono fatte su schede perforate, i computer hanno nastri che girano eccetera eccetera e alla fine esce un testo su carta che è spesso leggibile solo da chi conosce certi linguaggi. Un uomo parla a un computer e gli dice riuscirai mai a pensare come un essere umano? E il computer risponde questo mi ricorda una storia. Gregory Bateson dice perché tutti pensiamo in termini di storia. La narrazione è un oggetto di consumo, è un bisogno dell'essere umano, è una struttura fondamentale del nostro rapporto col mondo. Un grande filosofo del Novecento, Ricoeur, dice che la narrazione è il modo in cui diamo un senso alle nostre esperienze, ma non solo alle esperienze vissute ma anche alle esperienze della nostra immaginazione. Narrazione e immaginazione si congiungono nel dare un senso all'esperienza. Narrare è un aspetto universale della vita umana. Qui vedete c'è un capo indiano davanti a uno dei più antichi fonografi. Siamo alla fine dell'Ottocento e quello che viene fatto per cercare di recuperare questa cultura che sta sparendo, che è una cultura senza scrittura, eccetera, è dire racconta. Ci sono alcuni temi sui quali narrazione e immaginazione si incontrano in molte culture con particolare, direi ossessiva insistenza. Che cosa c'è dopo la morte? Che cosa c'è al di là del cielo? Esistono creature soprannaturali? La narrazione e l'immaginazione servono tra l'altro a rispondere ad alcuni dei grandi interrogativi dell'esistenza. lo studio di tutte le civiltà ha permesso di fare emergere una grandissima quantità di racconti. Quando gli antropologi hanno cominciato a lavorare sulle civiltà extraeuropee, hanno cominciato a parlare con i popoli con cui conversavano e questi, oltre naturalmente magari a spiegargli come facevano un certo cibo o cose del genere, gli raccontavano la nascita della luna, la nascita delle stelle, la nascita del loro popolo, la nascita di determinate abitudini e così via. Quando il mondo occidentale moderno ha cominciato a lavorare sul mondo classico, una delle prime cose che ha messo al centro della sua riflessione, dovendo riconoscere che un oggetto, che si tratta di un oggetto in parte misterioso, è il mito. Uno dei passaggi fondamentali della storia della cultura occidentale è stato quando Giovan Battista Vico nel Settecento ha cominciato a ragionare sulla miticità come una delle forme essenziali del pensiero umano. Non bizzarri racconti che chissà cosa vogliono dire, una forma essenziale del pensiero. I miti sono racconti su cui torniamo di continuo. I miti, questa è la mia definizione, che cerca di tenere insieme sia i miti classici sia i miti moderni, sono racconti che fanno da ponte tra il vissuto e il cosmo. Sono racconti che a cui ricorriamo, non mi sento di dire di cui ci serviamo perché sembrerebbe una funzione quasi tecnologica, mentre non lo è. Sono racconti a cui ricorriamo per collegare quello che noi conosciamo per esperienza vissuta con un mondo che sappiamo di non poter conoscere per esperienza diretta. Il cosmo che è fatto di questi interrogativi che vi ho citato prima. La vita oltre la morte, l'esistenza o no di creature superiori, l'universo celeste. La domanda che ci possiamo fare adesso è, va bene, accettiamo questa definizione di mito. Potete non accettarla, è la mia. Quindi me ne prendo tutta la responsabilità, potete dirmi no, non ci sta bene, però è la mia definizione di mito. Accettiamo questa definizione di mito, ma la domanda che ci possiamo fare è, ma il mondo contemporaneo ha dei miti, questo è un tema molto discusso nella cultura del Novecento, in parte già nell'Ottocento. Non a caso la parola mito è una parola che nel nostro parlare comune ha un significato più che altro spregiativo, è un mito, cioè è una bugia. La parola mito è stata schiacciata sull'idea di un'invenzione immaginaria, magari affascinante, ma falsa. E in effetti esistono due punti di vista su questo tema, che sono due punti di vista in modi diversi negativi. C'è chi sostiene che la cultura contemporanea non ha più miti perché ha perso la capacità di creare i miti e di crederci. Questa è una tesi sostenuta anche da teorie, da teorici importanti. Il famoso filosofo esistenzialista Martin Heidegger sosteneva che noi non abbiamo più i miti perché siamo stati talmente banalizzati, impoveriti dalla tecnica che andiamo al cinema, guardiamo la televisione, ma non abbiamo più i miti o qualcuno dice, in termini un pochino più addolciti, abbiamo dei miti degradati, abbiamo dei miti, dei residui del mito. E allora questo ci porterebbe al nostro tema. Secondo Mircea Eliade, che è un famoso etnologo, i miti contemporanei sono quelli del cinema e della televisione, ma sono mitucci, mitacci, potremmo dire, miti di secondo ordine, perché abbiamo perso la capacità di credere ai miti e di viverli. Un'altra posizione opposta è quella di chi dice no, il mito è tipico dell'umanità primitiva, quindi dei popoli extraeuropei che non posseggono tecnologie adeguate, non posseggono nozioni scientifiche, tipici di una cultura greca che era una grandissima cultura, ma lo era sul piano artistico e sul piano filosofico, non sul piano estremamente scientifico. Nel momento in cui la scienza e la tecnica sono andate avanti, non abbiamo più bisogno di miti, non ci crediamo più, perché abbiamo la scienza, perché dovremmo usare racconti come l'Apollo che corre col suo carro per spiegare il moto del sole, quando ormai del moto del sole sappiamo assolutamente tutto. Perché dovremmo credere alle spiegazioni che certi popoli extraeuropei danno della nascita dell'essere umano, quando in realtà della nascita dell'essere umano sappiamo pochissimo, ma facciamo finta di sapere attraverso l'attività dell'evoluzione e così via. Perché? Il problema di fondo è però che non funziona così. Il problema vero è che racconti che servono a fare da punto tra il vissuto e il cosmo continuano ad esistere. E io faccio un esempio che secondo me è abbastanza definitivo. Se c'è un campo nel quale noi dovremmo essere andati oltre i vecchi miti è l'astronomia. Addirittura ieri sono comparse le foto di un buco nero. Abbiamo fotografato un buco nero, figuratevi se abbiamo bisogno della fantascienza, i marziani e così via. Bene, negli anni 50 cominciò la grande corsa verso lo spazio e fu esattamente il periodo nel quale si cominciò a parlare di dischi volanti. Si cominciò a credere che gli alieni potessero venire verso di noi così come noi andavamo verso di loro. Era solo la bassa cultura che credeva in queste cose mentre gli intellettuali, le persone colte non ci credevano. Non è affatto vero. I miti dei dischi volanti erano generalmente diffusi per l'esattezza tra persone di media cultura. Ma uno dei fenomeni più divertenti è la domanda che c'è alla fine. C'è qualcuno di voi che non ha mai letto il suo oroscopo? Naturalmente tutti sappiamo che l'astrologia non è credibile. Eppure è una delle industrie più grosse del mondo moderno. C'è l'astronomia che ci parla degli astri eccetera eccetera e c'è l'astrologia che ci parla, che ci crea letteralmente un racconto che connette il vissuto al cosmo. Noi tutti i giorni stiamo a vedere come il cosmo influenzerà il nostro vissuto. Se ci pensate bene è esattamente quello che fa in forma di racconto perché l'oroscopo è una serie di racconti possibili. Dopodiché molto tipicamente se l'oroscopo non si realizza, ce lo dimentichiamo, se succede qualcosa che ci ricorda l'oroscopo diciamo ci ha azzeccato. Non è così? È una macchina, però sono racconti nei quali il problema non è tanto che ci crediamo perché molto spesso nei confronti dei miti e questo un autore francese importante, Paul Vein, lo ha chiarito molto bene in un libro intitolato significativamente Credevano i greci ai loro miti. Vein dice anche i greci avevano nei confronti delle loro mitologie un atteggiamento misto che andava tra il credere e il non credere. In realtà, ma qui entreremo in un campo veramente troppo grosso, in realtà il concetto di fede è un concetto molto specifico di alcune religioni. La religione cristiana chiede che noi nei confronti dei suoi racconti abbiamo un atteggiamento di credenza totale e indiscussa, però sembra, perché quello in cui dovete credere in modo indiscusso è il credo di Nicea, quello che ripetete a messa se ci andate, credo in un solo Dio, eccetera, eccetera. Per esempio la cultura cattolica diffonde migliaia di storie di Santi e nessuno vi può scomunicare perché non credete che a Sant'Agata siano stati tagliati i seni quando aveva 15 anni per punirla del fatto di credere in Gesù. È una cosa che non è così indispensabile, ma il culto cattolico è fatto della fede in Dio, ma è fatta della fede in centinaia di storie di Santi, fede che magari è locale. Io sono stato da poco alla festa di Sant'Agata a Catania, terza festa religiosa più grande del mondo, la festa di Sant'Agata a Catania, la gente era lì che letteralmente si strappava le vesti per Sant'Agata, ma se voi andate a Palermo e chiedete la festa di Sant'Agata quelli dicono vabbè quelli sono i catanesi, noi abbiamo un'altra santa. È chiaro cosa voglio dire, però il cattolicesimo nella sua genialità è fatta dei Santi e non solo di Dio, è fatto di centinaia di storie, ad alcune delle quali siete tenuti a credere, ad altre non siete tenuti a credere, ma ve le sentite raccontare, le vedete meravigliosamente rappresentate in migliaia di quadri, voi vedete i quadri, voi andate alla Galleria Sabauda e vedete una serie di storie diffuse dal cristianesimo che vengono dalla Bibbia o che vengono dalle storie dei Santi eccetera eccetera, non vi viene chiesto di crederci totalmente, vi viene chiesto di sentirle raccontare e se andate a vedere queste storie molte di queste rispondono comunque alle grandi domande di cui vi stavo parlando. Ecco, non ci sono epoche senza miti, non ci sono epoche che non abbiano forme di narrazione che rispondono ai grandi enigmi dell'umanità. Ci sono in parte modi diversi di fabbricare, far circolare e credere ai miti. Io ho introdotto uno schema molto semplice di cui sono consapevole che si tratta di uno schema semplicistico, schematico appunto, che contrappone due modi di essere del mito, quelli che chiamo miti ad alta intensità e quelli che chiamo miti a bassa intensità. Attenzione, i miti a bassa intensità sono tipici del mondo contemporaneo e circolano tra l'altro attraverso l'industria culturale, attraverso il cinema, il romanzo eccetera eccetera. Questo non significa che il mondo contemporaneo abbia solo i miti a bassa intensità. Il mondo contemporaneo è pieno di miti di ogni genere, il mondo contemporaneo è pieno di miti che sono legati a tutti i tipi di religiosità, è pieno di miti che nascono dal nascere continuo di nuove forme di religiosità. Quindi io vi parlo dei miti a bassa intensità come tipici del mondo moderno, ma non sono gli unici. Però perché sono interessanti per noi? In primo luogo perché l'industria culturale è una delle macchine principali per la loro circolazione. In secondo luogo perché mentre nel mondo moderno, soprattutto dal Novecento in poi, hai ai miti a carattere più religioso, si può credere molto spesso in modi differenziati da persona a persona, da gruppo a gruppo eccetera eccetera, i miti a bassa intensità proprio per questa loro caratteristica sono i più universalmente accettati. Faccio un esempio assolutamente tipico tra i miti a bassa intensità del mondo moderno, che sono tra l'altro fondamentali anche per il cinema e anche per quell'altra forma di cultura di massa enormemente diffusa, importante e sottovalutatissima che sono le canzonette, tra i grandi miti del mondo moderno c'è l'amore romantico. Amore romantico come idea per cui l'incontro con una certa persona ti porta al di là dei tuoi limiti ordinari, ti fa vivere un'esperienza completamente diversa dall'ordinario. Voi dite ma loro ortolema non crede nell'amore? Si sono quelli che non credono nell'amore, generalmente sono quelli che sono stati appena piantati, ma se vogliamo parlare dell'amore come modello di esperienza, possiamo dire che è un modello di esperienza generalmente creduto da tutti e vissuto da tutti. Questo modello di narrazione del sé, del rapporto tra il sé e l'altra persona è tipicamente moderno, è tipicamente legato al romanzo, al cinema, alla canzonetta. Abbiamo naturalmente figure amorose anche in storie più antiche, da Didone e Enea a Giulietta e Romeo, però sono figure rare. Non è un'esperienza quella di Romeo e Giulietta che è data a tutti, è un'esperienza eccezionale che Shakespeare propone come eccezionale, che tutti possono capire perché l'attrazione verso l'altro sesso o comunque l'attrazione verso un'altra persona può essere intensissima, ma che nella sua violenza è riservata a pochi personaggi e che nella letteratura classica, Tristano e Isotta, Didone e Enea eccetera eccetera, è generalmente così violenta da essere infelice, perché supera i limiti dell'umanamente possibile eccetera. L'amore romantico invece dal romanzo settecentesco in poi è un'esperienza che tutti ci aspettiamo di vivere, che tutti riteniamo di avere il diritto e quasi il dovere di vivere. Quando io dico che è un mito non voglio dire che è una bugia perché non accetto l'idea di mito uguale bugia, voglio dire che è un racconto che ci porta al di fuori dei nostri limiti ordinari e mi direte voi se non è così per l'amore. Quando uno si innamora mi diceva la mia amica che non posso nominare perché me l'ha vietato, quando uno si innamora crede alle parole delle canzonette, quando uno si innamora la prima cosa che vuol fare è raccontarlo. è una narrazione ed è una narrazione di un'esperienza straordinaria, di un'esperienza che ci porta fuori di noi stessi. Allora veniamo alla differenza tra miti ad alta e a bassa intensità. I miti ad alta intensità che sono i miti che esistono in tutte le culture, compresa la nostra, sono caratterizzati dalla distanza, soprattutto nel tempo, tra la nostra vita e le nostre esperienze e quello che i miti stessi raccontano. I miti ad alta intensità ci parlano di epoche lontane, di mondi lontani. L'Iliade che è una, è stracarico del mito lontano. Quali sono i testi chiave della mitologia classica? C'erano due testi chiave della mitologia classica a parte i poemi omelici e sono la teogonia di Esiodo e le metamorfosi d'Ovidio. Tutti i meravigliosi miti raccontati da Ovidio nelle metamorfosi si svolgono in un mondo che è altro che i buchi neri, un mondo in cui nessuno di noi può accedere perché è un mondo altro, altro nel tempo e nello spazio. O magari è nel nostro spazio perché il Monte Olimpo esiste effettivamente, eccetera, ma è in un tempo altro. Quando c'erano persone che erano metà Dio e metà uomo come Achille, quando gli dei potevano scendere sulla terra per dare una mano ai loro beniamini, eccetera. I miti ad alta intensità sono circondati da obblighi, divieti, da riti e da tabù. Possiamo aggiungere che sono circondati da riti generalmente, sono circondati da cerimonie e fanno riferimento a entità soprannaturali e a un universo, quello sacrale, che in qualche modo ci porta fuori dal vita ordinaria. Dice Rudolf Otto, che è uno dei grandi studiosi del sacro, il sacro ci porta nel totalmente altro. I racconti a bassa intensità, i primi di tutto sono nel nostro stesso mondo. Parlano di esseri umani. Merleau Ponti, filosofo francese, diceva che l'eroe dei miti moderni non è Prometeo, non è tanto meno Zeus, è un uomo come noi. L'amore è un mito a bassa intensità comunque perché ci parla di un altro essere umano come noi. Noi non incontriamo Dio, non incontriamo creature astrali, eccetera. Incontriamo un'altra persona che però ci porta al di là della nostra esperienza ordinaria. La forza di questi miti a bassa intensità sta nell'essere non tanto oggetti di celebrazione rituale quanto oggetti di consumo, come un oggetto di consumo il film o il romanzo, sta nella loro onniprosenza, nella loro immensa quantità di storie che vengono diffuse. Il nuovo è sempre uguale. Il mito classico, ma anche molti dei miti extraeuropei raccontano sempre la stessa storia, ma cambiando sempre particolari perché il mito è sempre mutevole, come diceva un filosofo, ma raccontano sempre la stessa storia. I miti moderni raccontano il nuovo, il sempre uguale. La storia è sempre diversa e sempre simile. Qui ho messo due foto, una classica scena western e un mito tra i più recenti che si erano nati, lo zombie. I miti a bassa intensità vivono soprattutto nel tempo libero. In una parte dell'esistenza umana che non ha obblighi particolari. Nelle civiltà, nelle forme religiose precedenti al Novecento, il tempo era diviso in feriale e festivo. Il tempo festivo non era più libero del tempo feriale, ma semmai era più vincolato perché era il tempo del Signore. Ricordati di santificare le feste. Il tempo libero attuale è il tempo in cui facciamo quello che ci pare. È il tempo del consumo. Se poi in questo tempo libero andiamo a Messa è per scelta personale, non per un obbligo generalizzato. Questo però non significa che i miti contemporanei siano meno importanti per il nostro bisogno di senso. Ecco, qui parlo del mito dell'amore romantico ho scelto volutamente i baci perugina. Ho scelto volutamente i baci perugina. Però il mito dell'amore romantico è quello, diceva un grandissimo scrittore Stendhal, è quello nel quale il momento, ecco la mia amica che diceva quando credo le parole del canzonetto, Stendhal nel libro sull'amore, dice il momento del vero innamoramento è quando la tua esperienza sembra corrispondere ai romanzi, diceva lui. Possiamo aggiungere ai film. E un critico, peraltro viveva diritti d'autore dei romanzi, ma un critico di questa cultura, Rousseau, diceva è per questo che poi la gente nell'epoca del romanzo abbandona le campagne e emigra nelle città. Non perché ha bisogno di soldi, ma perché ha bisogno di immaginazione. Perché i romanzi sono i luoghi dove vengono trascinati dalla città, dai sogni di amore, di autorealizzazione, eccetera. Il racconto amoroso sembra far incontrare la nostra vita con esperienze che sembrano trascenderla. Ecco, e d'altra parte ne siamo circondati, questo è uno dei dati più impressionanti. Provate una volta in una vostra giornata a contare quante storie d'amore sentite nel corso della giornata. Tra le canzonette al supermercato, le canzonette alla radio, eccetera, eccetera, i Facebook che leggete, ma anche naturalmente le riviste che guardate, eccetera, eccetera. Quante storie d'amore sentiamo ogni giorno? Sono bugie, sono schifezze, non mi interessa. Ci sarà un motivo per cui le ascoltiamo, come ci sarà un motivo per cui leggiamo l'oroscopo. C'è una, si tratta di racconti che pescano profondamente dentro esigenze, che sono psichiche e sociali contemporaneamente. Un altro mito contemporaneo tipicamente, e mi sembrerà strano che dica così, ma ne sono assolutamente convinto, a bassa intensità è il mito della rivoluzione. Grandioso racconto, grandioso racconto che ci parla dell'umanità che in certo senso si tira fuori dalla storia, non incontrando un singolo altro essere umano, ma attraverso un incontro con intere masse di persone che vogliono come noi cambiare il mondo. Il mito della rivoluzione è un mito che ci porta, o sogna di portarci fuori dalla storia ordinaria, con i suoi limiti, con i suoi orrori, eccetera, eccetera. E attenzione, quando dico questo, quando dico questo, non sto dicendo che il mito della rivoluzione sia una bugia. Milioni di persone sono morte gridando rivoluzione. E io ho un massimo rispetto per queste persone, ma anche i contro rivoluzionari ci credono al mito, perché se no non ne avrebbero così paura. Adesso le cose stanno in parte cambiando, ma per due secoli il racconto della rivoluzione era anche questo, ma il racconto della rivoluzione significava appendere i manifesti del c'è, significava leggere storie che parlavano dei rivoluzionari, non era vissuto politicamente, ma anche a livello di fiction, a livello di atti di consumo e così via. ecco. D'altra parte, nei generi, e qui torniamo al nostro discorso sui generi, noi troviamo molto spesso meccanismi analoghi. Per esempio nel western, che lo diceva Borges, nel western che è la forma moderna dell'epopea. Il romanzo, al di là di tutta la grande discussione che si ebbe nel mondo comunista negli anni 30, sui rapporti tra il romanzo e l'epopea, se il romanzo era l'epopea borghese o se era un'altra cosa, eccetera, cosa che meriterebbe una lezione a parte, il romanzo comunque è diverso dall'epos, il romanzo è diverso dall'epos perché nell'epos generalmente, perché nell'epos generalmente noi abbiamo delle figure abbastanza fisse, noi conosciamo già il loro destino, nel romanzo noi siamo interessati a delle figure che ci cambiano davanti e cercare di capirle, come cerchiamo di capire le persone reali e cerchiamo di seguire il loro destino. Il western, come alcuni altri generi, è un po' una via di mezzo tra il romanzo e l'epopea, ha alcune caratteristiche tipiche dell'epos, questa certezza in fondo della fine, noi sappiamo fin dall'inizio che alla fine ci sarà un duello che vincerà il nostro eroe, però ogni western deve essere diverso dall'altro, devono esserci degli elementi che ci sorprendono almeno in parte, inclusa la possibilità almeno in un caso che il western sia finito in un duello tra donne come questo. Diceva Walshaw, si va a vedere ogni esempio di un genere con aspettative precise e l'originalità è ben accolta solo se non introduce alterazioni di fondo, però quello che io sto cercando di dirvi è che tutto questo riguarda schemi narrativi che hanno dei significati profondi profondi. Nel western abbiamo sulla terra, perché i miti a bassa intensità sono antropocentrici, la lotta tra il bene e il male. Abbiamo sulla terra un confronto, un racconto che confronta forze che di per sé sarebbero metafisiche. Da questo punto di vista uno dei testi mitici fondamentali dell'epoca della bassa intensità che non a caso continuiamo a riraccontare è quello del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ma proprio come accade a tutti i miti, appunto devono presentarsi come risposte ai nemici profondi. E qui faccio una veloce, ma vedo che abbiamo poco tempo, rassegna del significato di questa esplosione delle storie di zombie, delle storie di morti e violenti che in qualche modo ci circondano, che minacciano di circondarci, che sono la forma antropocentrica della fine del mondo, la fine del mondo che non arriva con una catastrofe della materia, ma con una sorta di catastrofe fatta di persone che sono in parte come noi e in parte diversissime da noi. Le storie dei morti che camminano sono dappertutto, qui ho messo tre esempi, una serie televisiva prima di fumetti poi televisiva come Walking Dead, una storia divertentissima che è Orgoglio, Pregiudizio e Zombie, spero che qualcuno di voi abbia letto il romanzo e visto il film che è un innesto del grande romanzo di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio sulle storie di zombie e qui c'è uno zombie sparti, la possibilità nell'epoca dei culti di andare vestiti da zombie, cioè vestiti come siamo perché lo zombie tra le caratteristiche ha di non avere un costume suo a fare una festa o a rovinare una festa a qualcun altro. Ecco, i zombie sappiamo esattamente che regole hanno, il cannibalismo, il fatto che si vestono più o meno come noi, si muovono in branco, sappiamo che per ucciderli bisogna distruggergli il cervello. Sono i morti viventi. Sono una soluzione totalmente, totalmente misteriosa e naturalmente immaginaria con del grande interrogativo della vita dopo la morte. Loro sono la vita dopo la morte, che schifo di vita, ma la vita dopo la morte. Una delle cose più interessanti è che il mito zombie è letteralmente esploso in un'epoca nella quale i vecchi riti funebri non funzionano quasi più e stanno cedendo il posto a tutta una richiesta di nuovi rituali funebri, richiamando qualcosa che ci dicono alcuni studiosi, qualcosa che è caratteristico di gran parte dei miti sulla morte, cioè che i morti se non vengono seppelliti adeguatamente ci vengono a perseguitare. Gli zombie sembrano l'incarnatore, l'incarnazione di questa tendenza, non il fantasma che può essere gentile, buono, eccetera eccetera, ma il cimitero che si anima perché non sappiamo rispettare i defunti. Credo che siamo più o meno arrivati alla fine, volevo sottolineare anche che gli zombie si aggirano nel nostro quotidiano, le grandi storie di zombie sono inventate in supermercati, autostrade, eccetera eccetera, cioè la nostra vita che si riempie di figure che non vengono dal passato, ma vengono da una sorta di mondo parallelo al nostro. Mi fermerei qua perché credo che abbiamo ancora un quarto d'ora e possiamo eventualmente fare un po' di discussione, domande, eccetera eccetera. Allora, un secondo Paola, fai tu la presidenza, la raccolta delle domande? No, vedo che un po' di gente va via. Ah ecco il microfono, grazie. Allora, ho due domande. Una è, se il genere in un certo senso contiene in sé, e il mito forse è ancora di più, il proprio statuto di verità attraverso cui viene interpretato. Perché non possiamo all'interno di questa prospettiva metterci anche la scienza? E questa è una domanda. La seconda è, esiste ancora la fantascienza oggi che abbiamo perso una certa capacità di immaginare il futuro e tutti gli esempi di fantascienza contemporanea che abbiamo non assomiglia più a qualcosa di futuro, ma a qualcosa di molto prossimo. Bene, se ce ne sono una o due altre forse possiamo... Prego. Ti racconto. Non so, io mi sono fatta un'idea che è molto personale, ma proprio per questo è capitabile. Può essere l'esercizzazione della morte, cioè il bisogno di raccontare per esercizzare. Quindi la ricerca di generi che ci rassicurano in qualche modo. Ancora una domanda, poi comincio a rispondere perché sono già piuttosto ricche. Va bene, comincio dall'ultima e poi vengo a lei. Allora, la narrazione, l'umanità ha sempre un problema con la morte a vari livelli. Ne ha paura, ne ha curiosità. Ha un problema fondamentale che è il rapporto non tanto con la morte, che rischia di essere un concetto astrato, quanto con i morti. Una delle cose più universali che esistono nelle culture umane è l'onoranza ai morti. Parlare, usare strumenti, giocare, ma giocare giocano anche alcune specie animali. Quindi, narrare le onoranze funebri, e aggiungo che è molto importante, ballare, sono alcune delle esperienze più universali dell'essere umano. Quindi, io non parlerei di esorcizzare la morte, parlerei di fare i conti con la morte, che mi sembra un discorso un pochino meno orientato, perché esorcizzare la morte sembra una reazione alla paura. Noi abbiamo paura di morire. Il rapporto degli esseri umani con la morte è più complicato della semplice paura. D'altra parte, non capiremmo il cristianesimo se lo vedessimo solo come un esorcismo. Narrare è fare i conti col tempo. Ora, naturalmente, il tempo del vivente, molti filosofi hanno sostenuto che gli esseri umani sono le uniche creature viventi che sanno di dover morire. Non è più certo. Ormai l'etologia ci ha fatto scoprire delle cose enormi nuove, però sicuramente gli esseri umani sanno di dover morire, lo sanno abbastanza presto. Quindi devono fare i conti con la morte. Ripeto, fare i conti col fatto che non sappiamo cosa succede, e questo può essere fonte di paura, di curiosità, eccetera, eccetera, fare i conti con i morti. Il passato, diceva Bakhtin, è il mondo dei morti. E il narrare è sempre al passato, non perché sia il mondo dei morti, ma perché il narrare è sempre al tempo passato. Allora, quindi, che ci sia un rapporto tra il narrare e la morte, non c'è dubbio. Non lo ridurrei a una linea unica e psicologicamente troppo lineare. Su questi temi la psicologia rischia sempre di essere un tantino ogniesplicativa. però sicuramente il narrare, tra le altre cose, fa i conti con la morte a più livelli, secondo me. Ecco, questo, poi il discorso può diventare più complicato, ma questo, rispetto alle sue due domande, scienza e mito, non c'è dubbio che esistono dei miti della scienza, dei miti sulla scienza, e dei miti contro la scienza. Per esempio, il grande dibattito sui vaccini è un dibattito tipicamente mitico, che rischia di essere mitico da una parte e dall'altra, perché è mitico il discorso antivaccinista, in quanto è un discorso che parte dall'idea di grandi potenze che spiegano tutto. Non ci sono gli dèi, ma c'è Big Pharma, che in fondo è una specie di diavolo, e che la cui esistenza spiega tutto, come il demonio spiega il male, in qualche caso la morte, eccetera. Però c'è il rischio che ci sia il mito della scienza, che dice, no, voi antivaccinisti sbagliate, perché la medicina è perfetta. Perché c'è anche un mito scientista che dice che la scienza è perfetta, la scienza vive di dubbio. La scienza è tale se riconosce di non sapere. Di non sapere tutto, di sapere qualcosa, di sapere che certe cose sono dimostrate, ma anche di sapere che molte non sono dimostrate. La controversia antivaccinista è tipicamente una controversia tra due modelli mitici, tutti e due piuttosto rozzi. quello antivaccinista e quello vaccinista che ha ragione nel 99% dei casi, ma in qualche caso ha pure torto. E nel momento in cui riconosce di avere torto si deve demitizzare, deve dire noi abbiamo dei limiti, siamo delle realtà umane. Perché il mito della scienza è un mito rassicurante, effettivamente, ed è anche un mito ed è anche un mito ogni esplicativo. Cioè, alla fine, sostituisce alla figura divina la figura non dello scienziato, anche dello scienziato in qualche caso, ma comunque di questo grande sapere totale e assoluto. Quindi sicuramente, e questo porta con sé una serie di miti scientifici su cui si potrebbe discutere, che sarebbe molto interessante. Nel mio libro io parlo molto del mito dell'inventore, che è uno dei grandi miti moderni. La fantascienza. La fantascienza è uno dei generi più strani che ci siano, perché la fantascienza ha diverse radici, cioè nasce sicuramente la fantascienza nella, in un ambiente tecnologico, sia pure tecnologico divulgativo come quello delle riviste per ragazzi che parlano di radio, eccetera, negli anni, nei primi anni del Novecento. Infatti il più grande premio di fantascienza si chiama premio Hugo, perché è dedicato a Hugo Gernsback che pubblicava una rivista popolare di questo genere. Va detto tra l'altro che il famoso Tesla, che adesso è uno dei miti contemporanei, pubblicò le sue memorie nella rivista di Hugo Gernsback. però la fantascienza ha anche un'altra radice che per schematizzare al massimo che è il discorso più complicato possiamo fare risalire al romanzo Frankenstein di Mary Shelley del 1818. Perché cito questa cosa di Frankenstein? Perché la fantascienza ha anche una radice fortemente fantastica. Frankenstein è una potenza mitica come romanzo che è stato seguito da molti altri. Cioè l'idea dell'uomo che vuole superare i suoi limiti fabbricando artificialmente un altro essere umano e in questo modo in qualche modo si condanna da solo alla possibile autodistruzione. E nella fantascienza si incontra tutto questo. La fantascienza è sicuramente in crisi adesso e sicuramente in crisi adesso perché da una parte c'è l'emergere di un altro genere potentissimo che è nato pochi anni fa relativamente pochi anni fa che è il fantasy che è una grande calamita per il genere fantascientifico nel senso che molti scrittori di fantascienza tendono verso il genere fantasy quindi verso un genere che non è più neanche nel futuro ma in un mondo totalmente altro e poi la fantascienza rischia sempre di correre dietro alle invenzioni tecnologiche e quindi in qualche modo di apparire vecchia prima ancora di avere completato i suoi racconti il genere l'ultimo grande successo del genere fantascientifico è stato il cyberpunk degli anni 80 e poi dopo il cyberpunk sì certo Matrix Matrix che è una sorta di una sorta di come dire di trasformazione in un universo simbolico e distopico dell'idea di intelligenza artificiale sulla quale continuiamo a interrogarci la domanda è l'intelligenza artificiale è un mito la mia risposta è assolutamente sì l'idea di intelligenza artificiale che circola è un'idea di tipo mitico non sto dicendo perché sia falsa ma perché è un'idea che ha più valori narrativi che ci portano verso al di là molto vaghi che non idee scientifiche poi ci sono le idee scientifiche sull'intelligenza artificiale ma ormai gli studiosi seri che fanno quel tipo di lavori per esempio lavorano a macchine che sappiano educare se stesse non sopportano più di chiamare l'intelligenza artificiale proprio perché sentono l'alone pesantissimo di mito che l'accompagna ci ho detto la fantascienza continua a esserci la fantascienza continua a esserci perché l'invenzione di mondi che potrebbero essere il nostro futuro non è mai finita e la fantascienza una delle cose interessanti è di tutti i generi della cultura di massa quello che ha tratto in molti casi gli scrittori più visionari io vi ringrazio infinitamente adesso vi saluto che ho purtroppo quest'altro impegno che mi costringe ad andarmene e vi ringrazio ancora arrivederci grazie a tutti